La notizia me l'ha data ieri la signora prendendo il caffè che io quando scendo di casa per andare per il lavoro e purtroppo è stata una disgrazia e dicono che è stato ucciso, poi non lo so. Grande dispiacere quando succedono questi episodi, insomma anche il quartiere è toccato. Un italiano che va in vacanza e viene ucciso non è una bella notizia, no? Certo, tra l'altro sembra fosse anche impegnato in un'attività di volontariato, naturalmente ci torneremo. Parla anche di assistenze sociali, non so, persone per bene, non era certo un delinquente che è andata a cercare guai in Tunisia o in Turchia dove è successo. Non ci saremmo mai aspettato una cosa così triste, mi spiace moltissimo. Lei li conosceva? Conosco come buoni vicini, sono bravissime persone tutti quanti e mi spiace proprio tanto di quanto sia successo. Sapeva che appunto facevano queste... No, 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 non lo sapevo, no, 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 no. Sono superficiali, diciamo, però la notizia è veramente tragica.